Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Ho iniziato questo video proprio che sono qua Come potete vedere siamo rimasti in tre Sono proprio nel mezzo di una partita Perché potrei vincerla E quindi ho deciso di Così velocemente, proprio così a caso Di farvi un video Io avevo già in mente di farlo dopo questa partita Un video Però vedendo che questa partita sta andando bene Magari ve lo faccio già Adesso lo iniziamo già ora Il video dove sono gli altri due C'è nessuno che va dall'aer Adesso guardiamo un po' con il cecchino Prima ho fatto una cecchinata Se potete che c'è Mi bevo un attimo uno slurpone Bevi, 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 bevi Oh, si è fermata giusto, giusto Ho delle buone armi, direi Lì c'è sicuramente qualcuno Ma vabbè Non so dove nascondermi Perché io sono uno che si nasconda abbastanza Sono rimasti sempre in tre, ok Mi metto un attimino qui Per scrutare l'orizzonte Allora da quella parte siamo Eccoli laggiù che combattono Oppure si sta costruendo Se esce lo cecchino Se esce lo cecchino Dai esci Esci due secondi Un secondo anche Oh, sento qualcuno vicino Oh, c'è l'altro che gli spara Dov'è? Ah, laggiù l'altro forse Sì Guarda, esci Pum 110 Sto Sto avendo Sono molto Molto spaurito, eh Diciamo Perché Oddio Io qui sono troppo aperto Ecco, infatti Cavolo Cavolo Io non so costruire No, no Si avvicinava Sono morto Sono morto Sono morto Vabbè Terzo sarebbe già buono Per me Terzo Già è buonissimo Metto qua Che sono abbastanza Coperto da tutte e due Oddio Facciamoci un medikit Proviamoci Questa posizione Mi potrebbero Cecchinare Oh Aspetta Molto velocemente Facciamo così Così cambio Più velocemente L'è Oh Vuole uscire la testina Da lì? No Sta andando a rassaltare L'altro Ok, ok Quando rimangono due Io Quando ne rimaniamo in due Io vado a pushare Lì Cerco di distruggerne No Io volevo passare di lì Eh no Toccherà passare di qua Ok Cavolo Dove Dove Cavolo mi metto? Oh E quando finisce Ecco infatti Cavolo Però gli ho fatto male Dai dai Terzo Vabbè Ci sta Ci sta Ci sta Mi preparo subito Per un'altra Così Partiamo subito E continuiamo Questo bel video Ah Sono sicuro Che andrà Benissimo Eh già Come avete visto Non ho pubblicato video Questo weekend Perché ho deciso Di pubblicarne Per tutta l'estate Una Dieci a settimana Quindi due al giorno Per Da lunedì al venerdì Perciò Sabato e domenica No Perché così Almeno lì me li preparo Riesco ad averli Pronti E perciò Ho deciso Di fare così E spero che Possa andare bene Dieci video a settimana Dato che per un sacco di tempo Non ne ho fatti Quest'anno D'altronde Volevo leggermente Un attimino parlare Mentre si carica la partita E dire Wow Perché il video Di Conosciamo gli youtuber Del secondo episodio Di Gabby16bit Così a caso In 24 ore Venerdì E sabato Sabato Ha fatto 50 visualizzazioni Diventando il secondo video Più visto del canale Così in un secondo Mi fa piacere Sono questi qui Video che mi Ciao Salve Facciamo un ballo Oh perché S'abbia Oh perché Non me le fa fare Balli Ok Devo tenere per molto Capito Vabbè Allora Dove Potremmo Andare Potremmo Potrei andare Quaggiù Vai Sì Ce ne andiamo Belli lontani Tranquilli Così ci equipaggiamo Con un bel po' di armi Buone magari E poi Li distruggiamo Uno dopo l'altro Facciamo questa partita Ora vai Ci buttiamo Andiamo tranquilli Portnet Vedo che non lo state Guardando molto Perché ha veramente Poche visualizzazioni Quindi Sto parlando con nessuno Praticamente adesso Però vabbè Io lo faccio Prima o poi Magari I video Inizieranno A piacere Di più Già col fatto Del video di Gabby La gente inizia a vedere Più video Miei E Vabbè Salute che c'è Atterriamo Forse no Ci arriviamo Laggiù C'è nessuno Vero? No Non c'è nessuno Perfetto Abbiamo anche una Cosetta Che ci può servire Per scappare da qua Prendiamo subito Una pistola Che così Abbiamo un minimo Di Qui non possiamo passare Questa è una porta Questa Vabbè Romperemo Sì che potevo fare il giro Ci mettevo meno tempo Così almeno raccolgo Anche un po' di Materiali Che non prendo mai Ma vabbè Fa niente Per una volta Li possiamo prendere No? Però Un'arma Magari Una cassa No? La pistola Con i razzi La cassa Con il cecchino Buono Buono E qui Ah c'è Il muro Lo rompiamo Senza problemi Ecco qui Oh Questo bel Pompa Vendo Medikit Beh per ora Teniamo tutto Dai Finché non troviamo Un fucile D'assalto Teniamo tutto Andiamo qua Così ci facciamo Lo slurp Perché questa Che una volta Era la zona Del pozzo Quindi Qua ci sono ancora I cosi di slurp Stiamo facendo Delle missioni Voilà Così siamo Full Shield Qua Facciamo così Così c'è una cassa Perfetto Perfetto Eh Vabbè la pistola Quei razzetti A me non serve Molto Perciò Facciamo così Era tutto qua Sto coso Quindi non è che c'è una cassa No Siamo anche vicini Alla safe Perciò possiamo stare Un altro bel po' qua Vediamo i colpi Andiamo a visitare Quello che era Il pozzo Cioè no Un pezzo Sì Sì Questo qui era Il pozzo Giusto No Il pozzo Era più là Questa è una struttura Che si è creata Dopo Allora Magari ci troviamo Un elicottero Che sarebbe ottimo A me fa veramente piacere Che gli abbiano lasciati Gli elicotteri Perché io Li adoro Cioè Poi sono anche bravissimo A guidarli Faccio quelle Manovre Di quei cosi Fighissimi Questi elicotteri Infatti li adoro Saliamo ancora Un'altra cassa Niente di troppo interessante Ci fosse una volta Che io trovo Uno scar Magari no Beh prima lo avevo Ora non più Però prima lo avevo E È stato molto Molto utile Per fare Il danno A quello là Che poi mi ha ucciso Ma vabbè Non ci interessa Avevo Pensato Che potessimo vincere Prima Non era abbastanza Concentrato Ok Qui abbiamo Un progetto Anzi Sapete che c'è Questi qua Dato che poi Ti hanno uno scudo Li pigliamo Assolutamente Perché possono essere Utilissimi Allora Qui c'è Il coso Delle munizioni Dove Piggiamo Ok Che cos'è Ah la barca Lì Voglio provare a vedere Se salendo sopra C'è qualcosa Da qua Perciò Saliamo su No Non c'è nulla Qua Per caso Pensavo ci fosse L'elicottero Ma no L'elicottero Dov'è? È laggiù Eh vabbè Scendiamo Si può scendere Ahia Ecco Avviciniamoci Alla No scusa Io volevo andare In questa direzione Ecco Grazie No Tra un po' Mi buttava di sotto Perfetto Di qua Se c'è il mare Ma il mare Sicuri che piglio il mare? Io ci provo Vai Ok Possiamo rifarmi danno Vai Chiudiamo sta barca E andiamo in safe Siamo Siamo già in 22 Ma che co Ma dai Alla prima safe Siamo già in 22 Che schifo Voilà Questo bagno È solo per nascondersi? Sì No Cioè Dove vai? Dove mi porta? Dove sono qua? Comunque Sono un posto Il migliore Immagino Spero Soprattutto Qui c'è un'altra Cassetta Di munizioni Che me ne dà parecchie Molto utile Qui c'è un'altra Perché le buttate Tutte di qua Dai Andiamo un po' Altre munizioni Altre munizioni Ancora Altre munizioni Qui c'era la porta No Ok vuol dire che non c'è stata nessuna Qui Ah munizioni Per il Per il cecchino Perfetto Però il fatto che non stiamo trovando nessuno Non mi piace Io voglio gente Voglio combattimento Se no non mi piace Perciò sapete che c'è Io vado Vediamo un pochino S'hanno lottato quel posto Che piace tanto a me Vediamo un po' eh Io appunto Di magari fare due kill Già mi bastano Già fare due eccisioni Per me è tanto Quindi Mi bastano Veramente Veramente tanto Mi bastano Le Le accetto Volentieri Due kill Saliamo Vediamo un po' Se qui c'è già stato qualcuno E non mi sembra Perché qui le casse ci sono ancora Ciò qui non c'è ancora stato nessuno Luttiamo Ah no Scherzavo Qui qualcuno c'è O c'è stato Perciò bisogna fare attenzionissima Molta attenzione Che non me lo trovo Davanti Vediamo un po' No Non c'è nessuno Meglio Meglio Almeno credo Qui chiudiamo Così almeno Se arriva qualcuno Lo sentiamo Qui apriamo Pugliamo Ah allora Sapete che c'è Tanto che Sopra ce n'era un altro Puglio questi Perché me ne danno di più Quindi Assolutamente Questo qua Così abbiamo un bel centone Di shield In caso Venisse Ah questo qui lo preferisco Perché spara di più Più colpi A raffica Quindi Oh oh No Li scagnozzi Comunque I perdoni Oh No 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 Corri 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 Scappa, 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 scappa No, 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 non ho assolutamente voglia di farmi uccidere da quelli Piuttosto da qualsiasi player ora mi troverò davanti Ma da quelli lì assolutamente no Perciò ce ne siamo andati via da lì Prendiamo un po' sta cassa Ci facciamo subito uno scildone E' perfetto, così Voilà E ma oh ce ne andiamo al lago Così almeno lì ci ammazzano Mi sembra una bella idea E farci uccidere al lago Intanto qui ricarica un altro giacchino Quella cassa chi se ne frega Cioè quella casa chi se ne frega Qui non c'è nessuno Andiamo lì, prendiamo la zipline E andiamo al lago Niente di utile E andiamo Ehi Ehi Ma dai ma va Faffanculo Sto pezzo di merda Vabbè Chi se ne frega Non me ne frega assolutamente niente Vabbè Diciamo che anche per questo video è tutto dai Ho fatto schifo La prossima andrà meglio Magari vi porterò prima o poi anche una vittoria Perciò a me non resta che dirvi per questo video Ciao ragazzi Ciao